La serie Evolution di Holzer offre un sistema modulare completo per equipaggiare in modo ideale queste macchine CNC verticali per qualsiasi applicazione. Il pacchetto Pinjet consente l'inserimento sicuro e su due lati di spine pre-incollate. In questo modo la Evolution è equipaggiata in modo ottimale per la costruzione di strutture. Il contenitore integrato nella macchina ha una capacità massima di 400 spine. Il livello di riempimento è sempre visibile all'operatore attraverso la finestra di visualizzazione. L'intero sistema è continuamente controllato da diversi sensori per garantire un flusso di lavoro sempre regolare. Innanzitutto, tutti i fori vengono eseguiti sul bordo del pannello da lavorare. Prima di inserire le spine, i fori vengono bagnati con acqua con precisione millimetrica grazie a un ugello nebulizzatore. Dopo l'inserimento, le spine pre-incollate vengono riattivate dall'umidità dosata con precisione e ottengono così la loro piena resistenza in pochi minuti. Per la lavorazione del secondo lato, l'unità operatrice ruota di 180 gradi. Se necessario, possono essere inserite le spine in legno standard a secco come spine di posizionamento per giunzioni angolari smontabili. Tutte le impostazioni relative alle spine, come la lunghezza della spina, la sporgenza della spina e la quantità di getto, vengono effettuate nella macro completamente integrata nel Campus NC HOPS. L'assenza di residuo di colla, di variazione del dosaggio e l'elevata produttività sono chiari punti a favore delle spine pre-incollate. Inoltre, un sistema senza colla riduce al minimo la manutenzione. Durante l'assemblaggio finale, si può usare sia acqua spruzzata da un flacone spray che la comune colla bianca per il lato solo forato. Il pacchetto Pinjet per la serie Evolution rende le macchine verticali tuttofare di Holzer ancora più versatili e imbattibilmente produttive.